Un tocco di magia cambiò la sua vita per sempre e la condusse in un meraviglioso castello, regalandole una vita più bella di qualunque sogno. L'incantevole classico di Walt Disney continua per farvi scoprire cosa avvenne dopo e vissero felici e contenti. Cenerentola 2, quando i sogni diventano realtà. La vita di una tenera fanciulla diventa eccezionale in questa nuova ed inedita storia, con i celebri personaggi che avete conosciuto in Cenerentola, nuove e splendide canzoni e la riedizione dell'irresistibile Bibidi Bobidi Boo. La magia continua per una fanciulla che diventa principessa e ascolta il suo cuore. Cenerentola 2, quando i sogni diventano realtà. In videocassetta e Disney DVD.